Le chiedo cosa pensa di fare e soprattutto se è a favore di questa sperimentazione che, ripeto, ormai è apprezzata anche in tantissimi altri comuni. Sappiamo che l'adozione del taser è avvenuta già a Milano, a Firenze e in tantissimi altri capoluoghi e riteniamo utile visti i disagi, i danni e soprattutto anche l'insicurezza che non è più percezione. Io capisco tutto quanto quello che dite, tra poco sono i giornali per cui ognuno deve farsi vedere, farsi bello, però abbiamo avuto il Cosp, il prefetto, il questore, il Carabinieri, la Finanza, ci ha detto chiaramente io vi sconsiglio, non vi dico di fare o non fare, non so cosa ho detto Bonavina, obiettivamente non c'era, vi sconsiglio di adoperare questo sistema. Un botte risposta acceso tra la consigliera di Fratelli d'Italia Elena Cappellini e il sindaco Sergio Giordani ha alzato i toni durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale di Padova, ad innescare la polemica alla questione taser dopo la richiesta avanzata nelle scorse settimane dal sindacato Will che ne chiede la dotazione per la polizia locale. L'assessore alla sicurezza Diego Bonavina e lo stesso sindaco Giordani hanno già espresso la loro contrarietà anche alla luce di quanto comunicato dalle forze dell'ordine durante il recente comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il finanza ha detto che l'ho operato una volta da conoscere, mi pare la polizia locale ha detto la polizia di Stato 7-8 volte 10 adesso non mi ricordo più, comunque ha detto secondo me è più che sufficiente lo spray è più che sufficiente un'altra cosa se non mi ricordo più, lo dicano giusto, grazie, per cui vi sconsiglio per ora però adesso io capisco la sicurezza ma non è il problema, la sicurezza la parla per favore facciamo un po' di serietà su questo aspetto. La risposta di Giordani che riporta anche l'opinione del prefetto che ne sconsiglia l'adozione ha urtato la consigliera di minoranza Cappellini. La risposta del sindaco non mi soddisfa affatto e anzi sinceramente mi offende perché io non ho bisogno di farmi bella sui giornali. Gli agenti della polizia locale di Padova attraverso la Will hanno chiesto la sperimentazione del taser come avviene in altre città d'Italia, una richiesta che viene avanzata anche dal SAP il sindacato autonomo di polizia che ne sostiene la richiesta della polizia locale.